ciao a tutti e in questo video vi faccio vedere questo nuovo film in collezione graviti 3d l'ho visto al cinema e mi è piaciuto quando usci all'epoca dovete provvedere il blu jay normale andiamo a vedere com'è all'interno qua c'è il codice questo è il blu jay tutto e due molto carino e niente mentre vi piace commentate iscrivetevi al canale noi ci siamo prossimi video ciao a tutti belli